Cari bambini, sapete perché oggi è una bella giornata? Oggi è una bella giornata perché c'è il sole, e va bene. Poi perché tra poco si fa la svelta, si smette di chiacchierare e si va a mangiare e mi sembra un altro bel motivo perché sia una bella giornata. Ma uno dei motivi per cui oggi è una bella giornata è perché tanti grandi si preoccupano di volervi bene. Perché credo che la definizione più semplice di educazione, poi ce ne sono alcune più belle, più significative, ma quella più semplice è voler bene, è volere il bene di questi ragazzi. E trovo, questo lo diciamo ai grandi e la facciamo velocemente, trovo che le parole di Madre Paola siano molto belle perché siano un modo molto significativo di preoccuparsi, di avere cura, di in qualche modo portare nel proprio cuore questa esperienza. Io voglio davvero ringraziarla di cuore, ringraziarla per quello che è stato fatto e per il legame di continuità che proseguirà con questa realtà, ma anche per il modo molto dolce con il quale ha spiegato come un'esperienza voglia non soltanto di essere ricordata, ma di essere proseguita. Io credo che non ci sia esperienza più bella della libertà di educazione. E mi ha colpito, leggevo in questi giorni, uno dei primi atti del regime, e non lo sapevo e mi ha molto colpito, si iscrisse nel provvedimento educava alla libertà. Ecco, mi ha molto colpito e mi è venuto di ridirlo oggi per fare un augurio alla Chiappastelle, che prosegue questa esperienza in stretto rapporto con le suore, con l'amministrazione comunale e con tutti voi. Io credo che educare ed educarci alla libertà sia la più grande suida che oggi sia di fronte a una comunità. E da questo punto di vista vorrei molto semplicemente assicurare il sostegno dell'amministrazione provinciale nelle forme che insieme riterremo opportune, perché questo tipo di percorso riguarda questi ragazzi, riguarda le famiglie, riguarda gli educatori, ma io credo che riguardi una comunità civile che abbia voglia di guardarsi allo specchio con dignità. E allora il mio è un augurio di buon lavoro nella riscoperta dell'educazione alla libertà.